Musica Questa sera una puntata speciale, è vero? Anche perché stasera presentiamo i vincitori del contest Sfichisi Abbiamo qui apparecchiato un tavolino con delle coppe in oro C'è un divano di gnocche qua dietro Mi sta facendo... ah scusate, non capisco più Wally Simpson Si piazza al primo posto Giancarlo Ricci Tanti complimenti anche a Sonia Si ha fregato ad agio, si ha fregato ad agio Nicola Faraone Adriano, tu sei mai stato rapito da un alieno? No, l'ho rapito io L'ho violentato L'ufologia ufficiale viene fatta a partire proprio dal caso di Roswell Adesso noi ce ne andiamo, ti lasciamo tutto il palco Amore prende amore, Silvio Bono Si, Pino Daniele, Ipù, raramente si sentono E l'ultima canzone che ho cantato era quella di Tiziano Ferro Ho incontrato il tuo sorriso dolce Con questa neve bianca E adesso mi sconvolge Eccole Eleonora Eleonora, fai un po' di spazio Giancarlo, dai che la mettiamo Esatto Ok Sonia, come si intitola il pezzo? L'amore che sarà Vuole dedicare questo concorso e lo dedico a mia madre A tua madre Mi sopporto Tu parteciperai anche al microfono d'oro Sonia non lo sto perché Perché aveva un impegno per la finale Però vediamo se riesce a liberare Siamo in chiusura anche stasera Arrivederci e alla prossima Mi sopporto Grazie a tutti.